Ciao bello, sono Luridis e oggi continuiamo la scalata SSL con Cleverly ed è un altro video chill. Sicuramente questo format che sto usando mi piace un sacco, quindi belli lunghi, calmi, non troppo calmi, mentre c'è sempre la pazzia dentro. Ti auguro buona visione, passate una bella giornata, ciao bellissimi. E prima di iniziare il video ti ricordo il nostro sponsor è Eneba, un sito dove poter comprare tantissimi giochi per qualunque piattaforma a prezzi bassissimi. Trovi sempre il link in descrizione e col mio codice c'è il 3% di sconto, mi raccomando, compra tutto. Solo due minuti, so' passato. So' bambam, sembra di più. Top Allora vabbè Goal C'ho da incredibile magico Siamo arrivati già a 1750, vado a destra, definito il Nozzalatos La prima dei bambini o? La prima dei picci, vabbè il primo gol, ancora mancano 4 minuti, con la karma. In mezzo pure bene Bella chiusura, sto vicino ma mi sono posto sicuro, ma no, se n'è andato. Arriva Ah che paura, è anche il tempo di fare un salto. Ma è dunk? No niente. Ma funziona, quello salta? È pazzo, ma che vuole fare? Ma io non ti faccio passare, non li spunti, il boost spunti a me qua. A me spuntano neanche a me. Oddio rimbalzo Oddio sei andato? Oddio sei andato? Ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai. Quanto ha lagato? Ave l'aveva preso da te? Sì, però a me... Ma questo sei andato poi, guarda. Oddio va? Oh boost, oh boost. Non posso aprire il boost. Cattivo. Eppure i bustini. Si è preso tutto. Velocissimo? Eh. Puoi averla di nuovo. Oddio dietro. Ho avuto paurissima. No. Ah il flick finale, per cazzo. Sto giocando dei centri. No, è velocissimo. Basta. Ok. Oh, bravo passi. No, c'è l'oro. Epatico. Beh dove lo trovo, l'otto sto boost. Ma che ne so? Non ha più niente. Tu bel bump, bump in che l'altro. Pecchete. Non l'ha preso il jump. Oui. Fake. Aspetterale tu. Ma va, a rimbalzino. Che stava. Lo sapevo, andava in il boost. No, non l'ho bumpato. Scusami. Sbagliato. No, lo sbagliato io. L'ho bumpato. Sono al centro. Bello. Vabbè. Una volta a zero. Non ce l'ha. Vai tranquillo, l'ho troppo alcolato. Questo ce l'è invece, c'è un problema. Fuck. Boom. Oh. Ritemporta? Quasi. Mo lo bumpo. No. Spinto un po'. Intoccabili questi. Ho preso il jump. Ma mi ha passato giù di jump reset. C'è segnarlo? Boom. Gol. Buona. Go lì. Ma lei va. Ma che l'ho fatto lo stesso. Ma va. Ti voglio dare le spiegazioni per quelle ruote. In effetti vanno schifo le zomba. Che ruote stanno sulla Fennec? Io uso le Cristiano, vabbè. Le OM stanno pure bene. Molto leggere le OM. Anche se sono un po' brutte, però. Le zomba vanno bene solo sulla Dominus. Non so perché. C'è una partita con le Zou? Diamante. Batmobile. Un po' bella sta macchina. È Batmobile? Mmh. Sì, è figa. Cato che è difficile usare. Credo che appena sei un po' così. Se non sei al 100% ti andrà a pesare. Ma che cos... Cosa era? E cosa ho fatto? Va bene. Ti capisci? È andato nel futuro, è a DeLorean. L'altro non c'è. So flicca ora. Va bene. E invece feica. Fica da un... Aia, hai. C'è un tetto di distanza. Hai. E niente. Fake? Sbumica, sbumica. Fuori. Ah, calcolato. Hanno fixato il 100% di MK. Veramente? Che infami. Batto più il flick. No, l'ha preso. Lo c'erà? Sì. Non ho boost, peccato. Uh, ce l'ho. La stavo per parare. Stavo per prendere. Ti fa scendere subito. Invece per salire 8 anni ci metti. Ma questa sensazione di rocket è insopportabile. Ne perdi una e ho buttato i progressi di mezz'ora. Che poi basterebbe fare sempre una partita vinta un tot, una partita persa un tot. Come la maggior parte degli altri giochi. Invece di fare stai a punti rispetto ai punti degli avversari e altro. Quello, il rocket è speciale, no? Sì, è specialissimo. Tu la tira ora. Va, scherzavo. No, vabbè. No, non ci va. Invece. No, vabbè. Vabbè. Vabbè, rubare i bus. Ficcato, non c'avevo più. Ah, sento questo flick. Vabbè, flick al centrocampo, vabbè. L'altro non c'è. Volentino. No, che tira. Ci sta, ci sta. Adesso si gira quello. Sì, sì. E si gira di nuovo? Ah, rimbalza. Oh, è open. Ah, sta, oh, invece. Ah, quello control. Control per andare in aria, no? Utile da qua, vabbè. Vabbè, perché dipende il jump reset, capì? Perché ho zero da 20 anni, c'ho. Io ho 11. Mi ha superato bene. No. Lol. Arriva su ogni pallone dal laterale. È stranissimo questo. Quello non ce l'ha. Ce l'ha. Google. Ok. Per il dio, la seguo. Ma quanto vicino era? Non c'è anche... Non ti preghiere, seguono poco vicino. Non so perché. Ma ti giuro. Tra i pochi rischi. Ma tant'ì, io non ho bus, riesci a bloccare la parte alta. Sì, sì. Ma che ne so? Altro ho bampato. Ma infatti è open, eh. Basta fare così. È troppo agresti lo stile del gioco. Dov'amperare di più quando è così. Mi devo ricordare. No, i bui, vedasci. Ho rotto la macchina. Bruttissimo, non ho mai sbappo. Con la batmobile si distrugge tutto. Va bene. Brub, brub. Perché so bene. Volè. È lavorata. E mi sto distrutto la chiave al recupero. L'ho distrutto. Sto ritratto di culo, non ho più preso niente. Il flicchino, all'angolino. No, ce l'ha. L'altro dov'è? Arriva, arriva. No, ha figato, invece. No, non ci arriva a prenderlo. Mamma. Mamma. Fake. Ci va. E io stavo disalzato. Non ci è un vento a caso. Vai. Dunk, pazzo. No. Fatti da diretto. L'aspettavo. Uuuu. Oh, open. 20 secondi ce l'abbiamo. E poi lo sai fare? Sì, lo sai fare. Sì, sì. E poi. Non è esploso. Ah, ti è da fuori. Forse ci arrivo. Open, open. Difficilotta. Ok, buono. Andiamo dritto. L'ho messo qua a destra. Sono al centro. Vai. Porca miseria, con terraforte. Io, meno male che l'ho toccato. Meno male, sì. Avevo palo interno. Facciamo stare. Porca miseria, era una bomba, pure. Ringrazio la Batmobile. La sua lunghezza. La tirala su. No, io mi ho preso. Vai. Era dopo che l'ho battuta, una voo boost. C'è ancora una trentina. Ah, no, ho preso il cento. Ma, ma. Partito, sto flick. Batmobile flick, questo è. Una bomba. Può buttarla a tetto. Ah, ha fatto lui per me. Non c'è ancora. C'è ancora? Un zì. Oh, aspetta, dove vado? Si è fatto poi il boost. Non c'è arrivo. Dio. Mamma. 625, questo. Vediamo. È un 160. Ma, vada. Sì veloce. Seguiranno. Non penso, no? Oh, no. Arriva ora. È arrivato poco, camminando dritto. Piano piano, tipo. No, ma è. È actually smart. No. Ti asce il boost. Eh, arriva. No. Facefica. Peccato. Oh, il palo interno. Eh, sì. Non lo riesco a bumpare. Che? Ma quello dov'è? Oh. Ah. Che? Faccio un po' di spazio, questi, quanto siamo abituati. C'era ancora? Il bump. Sì, sì, ce l'ho. Passaggino? Alta. Dai, ripasso. Vedo io. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Adesso. Per passaggio. Dio, gente che aspetta. Hai capito? Cioè, mi sento... Dio, dove sono andato? Vabbè. Ma la che... Me l'avevo spostato, ha fatto da porrire. Dai. Dai. Oh. Dio. L'ho visto in cazzadino, eh. Vai, gole, gole. No. Vice. Portiere. Oh, sta facendo. Non lo so, è impazzito. Questa è impazzito. È tutto qui, sta facendo. È un po' impazzito. Ce l'ha all'angolo di tiro. No, no. Ho rischiato a... Pensavo ci andassi. Sì. Forza. Oh, mi sa... E' tutto qua era? Sì, cos'era? Io non lo so. E' qua. È fake. No, niente. Scusa, c'era un problema. No. Stiamo a fixare lì V-Bug? È una sensazione. O smetti di giocare per un po'. Tipo un'oretta. O fare rallentature, mi sembra. Il boost tanto non c'è niente. Mi sta bumpando. Ring. Ah, peccato. Per la parola, peccato. No. È fuori. Ecco Balino, guardalo. Oddio. Già, mi ho dimenticato di saltare. Uno di uno. Eh, vabbè, si è lunghissima. Peccato. Per parere se fanno così, però non... Girare l'auto per di tempo, eh. Che se lo so? Non è tutto lo sciato io. Situazione. Mi lascio il lupo con la chiave di girare. No, no, eh. Ma anche con le altre mi capita spesso. No, è un golino. Io solo l'ha deravato in quei casi. Anche se stai col merc, tipo. Eh, che stretto. Ma, ma diretto. Va bene, non si poteva modificare la bat, tipo, una volta. No. Alfa console c'era. Sì, c'era back, smooth. No, no, prima prima c'era alfa console. Sì, sì, il primo era alfa console. C'era ancora? Non lo so. Non so che stanno facendo. Scusate di andare qua. Le ho preso il boost e l'altro l'ho pure intrippato. E se spingertelo? Me l'ha presa? No, meno male. No, niente. Stai fuori. Non ci arrivo col boost. Oddio, volevo toccarlo. Dove sei arrivato? Hai segnato pure. Ah, ok. Ma dove sei arrivato? Alla batte ma... Ah, pensiamo nel forfè. Oh, fake. Fake. Ma vai. Non anche loro. No. Dove un double touch? No. Uh. Lo si. Peccato. Oh no, Strygon. Sei alti. Tipo 2100 e passa. Ah, basic win. Che sta qua? Vabbè. Eh. No, è chi ce l'ha? Oh. Lo stascio con lui. No, ma ha spinto. Vai tranquilli. Fa anche. E così appiccicato. E' fastidio. Ah, l'ha passato da lui. Abbacchio. Ah, mai si chiama Abbacchio. Di Jojo. Sì, vero. Per il tiro. Fuori. Eh, il blocco. Ma quello ci sono un po'. Sono impazziti. Eh, se ne vanno. Non si capisce. Mi sembra la pasta. No, no. Mi hai fatto il booster e me ne hai fatto. Oh, lì. Sei? No, oddio. Tavolo. Sono immortale. Non sono esploso. Allora sei tu l'immortale. Dito dietro. Ci sa. Se la tolgono. Vabbè. Mai così si gioca tanto. Sì. Guarda. Vedamente a casa. Ma ora non ci sono andati poi. Tocchettino magico? Tocchettino magico alla fine. Uno. Zero, zero, uno. A posto. Fake. Ma ruba di boost. Non si fa. Non ce l'ha più questo. Invece sì. Arriva. Arriva sempre quello. Arriva sempre, comunque. Ha preso il boost. Mi hai sparato sotto. Niente, ho niente. Oddio, era entrata palissimo. Ho spento a zero. Devo respirare. Vedi il boost? Aspetta. Arrivi. Bam. Uh, dai, cade giù. No. No, peccato. Il boost si è presi tutti. Ora si gira. Con la tira. Ma invece la controlla. Ha provato il controllino. Quella è in aria, Gio. Mi sono spaventato. Cazzo. Ho spinto uno e l'altro. E l'altro non ho provato una boost. Poi? Ok. Ok. Questa fuori di nuovo. Cosa ci arrivo? Cosa ci arrivo? Eh. Eh. Vabbè. Eccolo. Vabbè. Sì, dove è? Io lo guardo. A posto. Poi ci va pure. No. Ok. Va bene. Eh. Eh, boh. Era il fake bump, mi sa. Vendetta subito. Vole. Abbombalo. Non ce la faccio. Sfiga, però. Chiettino. Laterale? Eh, sorry. Oh, ma che fa quello? A posto, hai fatto benissimo. Non hai fatto... Stava ballando quello, guarda. Sfiga. Si è rotto due volte col baby dash, mi sa. Eh, non c'è niente, quello è tranquillo. Vabbè, scherzato. C'ha tutto nella vita. Sfiga, c'ha tutto. Bang. Oh, vado. No, ma ha spinto. No. Suka. Oddio, la parata. Passa, sopsaico. Madonna. Ho tolto il boost. E lo spingo. E sto sotto. Vedo fastidio. Lo spingo ancora. L'ho spinto di sopra. Flick più alto. Vabbè. Il boost li hai preso. Vado di là. No, lui ci arriva. Fatti. Ce l'ha? No. Invece. Ce l'ha l'altro là. Bell'antora, tira. Oh, lì. Allora, vado a morire. Ah, l'ho preso il boost. Lui non gli interessa. No, me l'ho tolto all'altro. Oh, bell'antirio. Ah, ci è volato? Sì, sì. Tira, 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 tira. Oh, passo. Non posso. Ah, giusto. No, se l'ho entrata così. Cado. Maxi, paradono. Ma io ho zero. Siamo da vent'anni in porta, tira. Oh, lì. Io rimbalzo. No. Come hai fatto? Vuoi bumparmi? Vabbè. Pazzito pure questo. Vuole andare? Io non ci vado. Ah, ah, ah. Scemo. Ah, ah, ah. Mi tocca. In teoria è regola. Devo ricaricare. Ah, spero. Ok, vai. No, l'ho lasciata che mi fa. Tira, 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 tira. Ok. Eh, niente. Era, ok. Se regolava uno e mezzo. Se regolava uno e mezzo, perché eravamo usato culo, quindi... All'inizio sì, poi l'abbiamo vinto. Perché becchiamo i due mili. Cioè, eri esplonato? Mamola. Eh, ha usato il cambio squadra. Eh, infatti. Cittone. Non è esploso, ero supersonica. Va bene, così. Ecco, vabbè. L'ha fatto lo sis. Ah, posso. Ecco. Va lì. No, niente. Mi ha toccato. Oh, se l'avessi segnato così. Mi tocca, lì. Sorry. Va bene, va bene. No, non ce l'ha mai. Vero, è verità. C'entro? Poi? Oh, via. Un po' brutto. Ricominciamo tutto. Pecchissimo. Ah, scemo. No. Ma ha spinto pure, oh? Tirava diretto. Bellissimo. Uh, si è arrischiato. È impazzito questo ogni volta. Non è anche l'altro. Ma si gira. Ecco. Vabbè, si alza. Ha fatto il tortellino, ha fatto. Non lo so. Non mi piace il tortellino. Eh, se, sai, vedi se è lui. Francese, Rocket League player top 100. Sì, sì, è lui. Sì, c'hai proprio pure dai amici. Perché ci fa qua a mille, manco a milleotto, scusa. Vabbè, sarà quei player che fa sali e scendi, tipo, no? No, noi siamo in divisione tra. A milleotto siamo ora. Tivo, molti player fanno duemila, poi scendono a mille e sette. In un giorno. Molti mi scrivono, ieri ero champion e oggi sono davanti uno. Perché quando uno si nervosisce e comincia a giocare, alla fine. Eh, è vero, è vero. Devi prendere una bella posetta. 5-10 minuti. Ti vedi un medio divertente e resetti tutto. No, poi ti devi fare tipo privata, così. No, privata, sì. Basta che è speciale, era anche te quando vincite. La prima idea di giochi nervoso perché stai perdendo, è la fine. Se invece perdi, devi essere tranquillo con la mood, poi continuare. Tipo, a te la sconfitta non pesa tanto, mi so. Adesso no? Prima sì. Vabbè, ero un po' stupido, ero. Vabbè, a tutti pesa la sconfitta, è normale. Riesco a gestire, ecco. Sì, appena capisci che la sconfitta non fa niente. Vabbè, ovviamente dà un po' fastidio, soprattutto se sono i tornei, no? Però ci devi passare su, no? Devi usare la sconfitta per migliorarti, no? Per crescere, è importante. No, che fai? Rimani sempre lo stesso. Flicchino. E ce l'ho? No, che infame. Non te leggo il drop down. Non ci arrivo, purtroppo. Ah, ci arrivi tu? Eh, vabbè, calmo. Oh, tiro. Vai, ha sbagliato. No, no, c'è un problema. Ho feccato io perché tendo ad andare su quella centrale. Arriva. Poco buste. E lui tira. Ma meglio. Ti avresti il controllo? No, no, sì, sì. Lo so che è meglio, però. Eh sì, per noi. Ma che culo. No. C'è. Eh, arrivo. Stavo per bumpare. Oh, gol. No. La toccava meglio, sì. Sì, però. So qua, lutto proprio. Abbastanza. Ficchissimo. Ah, no, no. Ho avuto la paura. C'è gente che dice che non esiste la sfortuna su sto gioco. No, la sfortuna esiste. Esiste lo screen. No, ma la sfortuna, intendo, tipo, che so, pendipalo, la palla, tipo, cosa, possiamo andare in alto, va sotto. Sì, a partire da sfortuna te ci sono. Magari, la puoi, puoi non far capitare delle cose, no? Sì, puoi sempre fare il movimento fake. Alcune cose, cioè, capitano proprio che basta, cioè, non puoi farci niente. Tipo. È tipo questo. Ecco. Uh. Puoi. Maxi clear. L'ho neanche preso. Doppio. No, no. Olè. Adesso si segna. Adesso si segna. Per lo zero? Che infale. Vabbè che la Francia è molto più avanti all'Italia come i sport. Sì, abbiamo proprio in generale. Poi come player. C'è, stanno molti, molti più player forti. Non molto, proprio... Cioè, per loro l'e-sports è proprio OP. Sì, loro l'hanno capito com'è. È mezza open. Ecco, ha fatto lui. Vai. Oddio, non ho visto niente. Quella espressione cattivissima. Sembra il rocket league, questo. Sì, è sempre il roghetto. Spazio. Tanto spazio. Palo interno, ovviamente. È caldo, proprio su di lui è caduto. Ma ma ho tirato troppo forte all'altro. Vabbè. Ce l'hai io? Ho preso il jump. Dove vi c'è meno altro po'. Ah. Va bene. Lo zero io. Mi l'hai rubato. Frecchissimo. Ah. Vabbè, backpast è proprio... Ballerino è stato. Camperino. Ah, c'è sta. Oh, vabbè. Puro? Non mancato. Sì. Grazie. Sì, è questo gioco. Vinci due partite, ne perdi una, torni ai punti di partenza. Praticamente. No, i reset. Palle. Spana, 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 spana. Ah, si è sponato. Che co... No, mi ha preso lo stesso. Oh, quasi. L'avevo quasi preso. L'ho visto pure in ritardo che stava arrivando. Per così concedere solo un boost. L'importante è... Dunque, il boost... Boost non c'è le palla. Sì, sì. Ma sto in fame non vado a spuntare. Ero lì. Dovebbe essere low. Chi si gira in porta quando... Vabbè. Un po'... Ecco, appunto. Sì, sono così vogliono segnare. No, non mi ha saltato. Che cazzo... Ah, ho preso il controller rotto. No, no, ho... Mi ha... Tipo il stesso bug di quando sali velocemente... Sul muro, all'angolo. Ah, sì. Il cordolo infame. Ma non lo fixano mai, eh? Ma il cordolo penso sia voluto. Il resto non lo so. Dici che il cordolo non è voluto quella cosa che fanno. Ma non ha senso. Ma questo sì, è fuori. Troppo le tolte. Infatti c'è la meccanica... Quella del curve dash. Eh sì, però... Molte volte è involontario, tipo. Mmh, sì, questo sì. Quindi... Un po'... Un po' brutto, ecco. Nooo... Dio. Sti pump infami. Ti fanno volare sempre? Mio Dio. No, è brutta questa. Oh. No, l'ha presa lo stesso. Priva. Io busti. A posto. Fake. Frechissimo tutto. Dice. Ma sei pazzo? Ma sei pazzo? Beh, bisogna rischiare. Hai ragione. E basta. Oh merda. Vabbè, sa lo screzzandolo? Eh... Noll. Vabbè, eh... Tutto calcolato. Easy. Luggami祗. E schifza la altra, Sei fattuto calcolato vuori. Fu trabajo. In witness momento. Di sista. Fuora culo.